Ciao a tutti e tutti, io sono Stefano Carosino, sono candidato per il potere al popolo nella circoscrizione di Parma e oggi per la rubrica Chiedi ai candidati risponderò a una domanda che ci è stata posta durante questa campagna elettorale e cioè come mai abbiamo scelto di candidarci da soli e non di sostenere la candidatura di Stefano Bonazzini del Partito Democratico. Per noi la risposta è piuttosto semplice, ci sembra infatti tutto evidente come Lega e Partito Democratico rappresentino e tutelino lo stesso tipo di interessi, basta del resto dare anche un'occhiata veloce ai programmi di Bonazzini e Borgonzoni per rendersi conto di come questi programmi siano in tutto e per tutto sovrapponibili, in particolare su questioni che per noi sono assolutamente centrali per il futuro del nostro territorio come le grandi opere o l'autonomia differenziata, progetto che appunto al di là di qualche piccola sfumatura vede Partito Democratico e Lega andare assolutamente d'accordo. In secondo luogo le nostre liste si compongono di studenti, di lavoratori precari, di disoccupati, di pensionati che non arrivano alla fine del mese che non potrebbero certo condividere candidature con i personaggi che troviamo nelle liste a sostegno di Bonazzini imprenditori senza scrupoli che si sono arricchiti inquinando i territori o che ritengono del tutto normale di licenziare centinaia di persone con un sms. E in terzo luogo non ci candidiamo a sostegno di Stefano Bonazzini perché al di là della retorica del buon governo viviamo questi territori e sappiamo bene cosa ha significato buon governo ha significato tagli ai servizi essenziali, chiusura di ospedali, di punti nascita in territori periferici ha significato infrastrutture piccole ma assolutamente importanti per i territori lasciati e abbandonati a se stessi negli incurie e in stato di insicurezza ha significato un trasporto ferroviario locale in costante peggioramento in questi anni e ha significato una situazione dell'inquinamento atmosferico in grave peggioramento costante contro la quale il Partito Democratico non ha saputo mettere in campo alcuna misura efficace ma non solo, si continuano a finanziare progetti di nuove autostrade che non faranno che aggravare una situazione che è già critica secondo noi il buon governo significa l'esatto opposto di tutto questo significa lavorare per tutelare il lavoro e i lavoratori garantendo un salario minimo degno significa battersi per una transizione ecologica che sia pagata che sia a carico di chi in questi anni ha inquinato i territori traendone il profitto e significa lavorare e battersi per servizi pubblici gratuiti ed accessibili a tutti se avete a cuore i temi della giustizia sociale e ambientale portate potere al popolo e Marta Collotta grazie a tutti